Amici di GenteVip, siamo con Giorgio Borgatti, attore di cinema, fiction, teatro, dai palcoscenici al pubblico. Cosa speri di vedere stasera? Io sono venuto a vedere un mio grandissimo amico, che è Maurizio Casagrande. Abbiamo fatto insieme Carabinieri, sono stati sei mesi di divertimento e di serio lavoro professionale. E Tosca, che non conosco personalmente, però ho già ammirato tante volte. Un attore, la bellezza è di poter essere anche pubblico, perché noi siamo pubblico sempre, siamo pubblico nella vita, quando incontri le persone per strada, è sempre un continuo arricchirsi. Vedere due bravi colleghi è un arricchimento. Grazie. Di solito cosa preferisci vedere a teatro? Devo dire, rischio di essere banale, cerco di vedere un po' di tutto, dalle cose drammatiche, impegnative, che possono coinvolgermi emotivamente, a delle commedie leggere, divertenti. Ecco, non vado a teatro per ridere per forza, quello sì. Grazie. Senti, la commedia tratta comunque in tono ironico, un tema piuttosto attuale, che è la crisi economica, che sta attanagliando quasi tutte le famiglie di oggi. Secondo te come bisogna uscire da questa crisi? Secondo me si ne può uscire cercando di pensare a quanto si è sperperato prima, su tutti i settori, su tutti i campi, anche il nostro. Precariato sul lavoro, precariato nei sentimenti, si spera che non sia sempre così. Ma da una situazione difficile c'è sempre una luce, no? E quindi andiamo verso la luce. Grazie mille, grazie, buona serata. Grazie a tutti.